Tagliare i capelli è utile per rinforzarli, vero o falso? È falso. Tagliare i capelli non porta nessuna utilità al paziente che li sta perdendo, né li rinforza in chi li vuole invece rinforzare. Bisogna pensare che i capelli non sono come dei muscoli, quindi non vengono modificate le attività biologiche con un esercizio, ma sono soltanto il prodotto dell'attività del follicolo pilifero. I capelli possono essere lavati anche tutti i giorni, vero o falso? Vero. Ovviamente bisogna usare il buon senso e quindi forse l'approccio migliore sarebbe di lavare i capelli quando sono sporchi. In generale lasciarli sporchi perché si ha paura che lavandoli cadano è un errore fondamentale perché su quello capelluto si depositano sebo, sudore, germi, batteri e inquinanti e quindi questo peggiora la situazione clinica e non la migliora. Lo shampoo per capelli grassi può peggiorare la situazione, vero o falso? Falso. Diciamo che gli shampoo vengono formulati in maniera diversa, ma hanno come indice comune una base lavante. Quindi quando noi vediamo scritto su uno shampoo che è per i capelli grassi, non dobbiamo pensare che sia in grado di ridurre la seccazione sebacea. Anzi, qualche volta si può osservare che l'abuso di questi shampoo per capelli grassi può contrariamente produrre secchezza dei capelli. Lacca, spuma e gel fanno cadere i capelli, vero o falso? Falso perché i capelli naturalmente traggono la loro vitalità dal follicolo pelifero che è molto distante, tra virgolette, dalla superficie cutanea e quindi non hanno ovviamente e non subiscono un danno perché noi mettiamo lacche, gel o prodotti per capelli in generale. Piastra e phon rovinano i capelli, vero o falso? Vero. Bisogna assolutamente evitare il surriscaldamento della fibra del capello e quindi si consiglia sempre di utilizzare il phon tiepido e mai e poi mai phon ovviamente ad alta temperatura o peggio ancora, piastre o dispositivi analoghi. La permanente e la decolorazione danneggiano i capelli, vero o falso? Vero, direi che sono delle esigenze di tipo cosmetologico ma che ovviamente danneggiano le fibre delicate che sono i nostri capelli quindi specialmente che ha capelli fini o che ha problemi di sofferenza dovrebbe ridurre al minimo queste procedure e accontentarsi della semplice tintura dei capelli. Il casco per la moto fa cadere i capelli, vero o falso? È falso che il cappello o situazioni di questo genere possano far cadere i capelli sono ovviamente dei luoghi comuni, vanno sfatati e soprattutto vanno messi definitivamente nel cassetto. Portare i capelli legati favorisce la caduta, vero o falso? È vero se ovviamente noi induciamo una trazione nel momento in cui leghiamo i capelli quindi se leghiamo i capelli in maniera morbida possiamo accettare questo come scelta estetica o comodità se io faccio una certa professione, mentre se io quando li leggo induco una trazione alla fibra e quindi al follicolo pilifero posso determinare una vera e propria alopecia che si chiama alopecia da trazione. Per aiutare la crescita dei capelli bisogna pettinarli a testa in giù, vero o falso? Naturalmente è falso, la vitalità del capello come è noto dipende dall'attività del follicolo pilifero che non ha nessun beneficio se la pettinatura viene in un modo o in un altro anche se poi invece, e questo è più importante, dire che la pettinatura deve essere invece fatta seguendo l'orientamento di come il pelo, la fibra esce dalla cute e quindi dal follicolo pilifero. Il lievito di birra stimola la crescita dei capelli, vero o falso? È sostanzialmente falso nel senso che l'aspettativa di poter modificare la crescita dei capelli con degli approcci di tipo dietologico o con gli integratori spesso e volentieri è insufficiente per superare le difficoltà maggiori. Troppo stress fa venire i capelli bianchi, vero o falso? Sostanzialmente falso, la questione dei capelli bianchi è una questione tipicamente genetica, i primi capelli bianchi compaiono intorno ai 30 anni ma il fatto che uno sia bianco a 30 anni o a 40 o a 50 o più non dipende dal livello di stress ma dalla sua genetica. Chi soffre di psoriasi, eczema o dermatiti non deve tingersi i capelli, vero o falso? È sostanzialmente falso, anche se chiaramente la cute di un paziente con dermatopatie può essere più sensibile ai prodotti e quindi può soffrire il contatto con alcuni agenti chimici. A quel punto il buonsenso deve guidare il comportamento del paziente e dell'operatore.